Quello che vi intriga di più, tu Luca? Diciamo che Bellingham, Bellingham a Madrid si è già in posto, è un giocatore fortissimo. Claudio? Non sono così nuovi perché li conosciamo già, ma sono giovani, io direi di comusiala. Ah no, i nuovi sono ormai del 2011, 2012, hanno 12, 13 anni e già infiammano le platee europee.